Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Però penso che è un po' rafforzare la propria identità, cioè dire a elettori che sono sempre di meno, mi raccomando state nella nostra curva contro quegli altri. E questo io non l'ho condiviso quando è venuto a destra e quando è venuto a sinistra. Allora Patellaro, se passasse dall'altra parte sarebbe un problema per Meloni o no? Se passasse con la Meloni? No, se passasse col centro-sinistra. Se c'era Renzi magari le chiedevo quello. Allora, rispondo. Mi chiedo, rispondendo alla domanda di Floris, se passasse con la sinistra o restasse dov'è? Ma non crede, lei che ha delle legittime ambizioni, che un partito del 4% sia purtroppo ininfluente? Allora, le rispondo alla domanda. Tutti i partiti che hanno governato negli ultimi anni sono stati al 4%. Poi a Roma abbiamo preso il 20%. Ecco, questo è il punto. Ma io penso che lei, partendo dal 20% a Roma, avesse... Ma possiamo dirlo? Ha delle altre ambizioni. Il progetto del centro, che era il progetto con cui aveva messi con Renzi, purtroppo è fallito. No, non lo posso dire. Cioè, questo è un problema grosso. Sapa dell'Aro perché non lo posso dire? Per due ragioni. Primo, perché abbiamo preso 2 milioni e 400 mila punti, che sono tanti in 45 giorni. Secondo, perché non è mai decollato. Perché io purtroppo mi sono trovato con qualcuno che quella cosa non la voleva fare. Bisogna attestarlo sul campo. E quindi bisogna lavorare, insistere, continuare, sapendo, e lo deve sapere anche la sinistra, che ogni volta che proporranno qualcosa che è giusto, come la sanità, ci troveranno insieme a loro a fare una battaglia di merito. Il centro sembra tanto l'isola che non c'è, insomma qualcosa che corrono dietro a questa roba che poi si squaglia i moderati dove stanno. Lo si vede anche dal pubblico televisivo. Il pubblico televisivo non sta premiando le televisioni moderate, che danno un messaggio forte, chiaro. Ma io voglio fare una domanda su Casa Sua. Perdoni, con molto garbo entro a Casa Sua. Mi pare che i suoi iscritti, i suoi testerati ad azione, non i suoi testerati, scusi, ad azione, siano calati di due terzi rispetto a due anni fa. No, sono 25 mila. Non avete più fatto congressi? No, li abbiamo finiti la scorsa settimana. Ma dove? Anche in Italia? A Roma l'avete fatto tutti in qualche municipio? Abbiamo fatto, abbiamo 25 mila iscritti, il massimo a cui era arrivato azione era 30 mila e abbiamo fatto congressi in tutti i province e le comuni dell'Italia. Mi pare di capire che, per esempio, la politica che lei sta facendo con quelli che potremmo chiamare gli alleati, sia in Italia che in Europa, è una politica che non sta portando risultati. Con più Europa, mi pare che lei ha definito qualche giorno fa, Maggi, un maleducato. Bollabonino, mi pare che è stata trattata non propriamente bene dal punto di vista elettorale. Quelli che stanno in Europa chiedono una dichiarazione comune per far fronte ai populismi. Lei non ha ancora risposto se vuole accettare una posta di questo genere. Mi avvalgo dalla facoltà di rispondere. Mi faccia finire un attimo. Mi sembra che lei si stia in qualche modo, di Renzi abbiamo detto, ha parlato Patellaro, quindi sappiamo, rinchiudendo una sorta di torre burnea nella quale lei è convinto di avere il verbo per tutto quanto, però poi risponde. L'ultima volta che mi hanno parlato di una torre burnea me l'ha detto una sardina, quindi io fossi lei, Jasmine Cristallo, mi preoccuperei. Le sardine sono buone, col tono, la roba buona. Secondo, noi proveremo a fare un'alleanza con più Europa, l'ho sempre detto, abbiamo avuto e abbiamo discussione come tra alleati, io credo pure tra Salvini e Meloni, secondo me qualche discussione a occhio c'è stata, ma il punto è di nuovo, certo che è un lavoro molto complicato e non ho nessuna pretesa di avere tutte le soluzioni. Tante volte ho sostenuto soluzioni che si sono rivelate sbagliate e quando è successo ho provato a dirlo. Quello che sto solo cercando di fare ogni volta, in ogni momento, è cercare di dire che non si può fare tutto agli italiani, cercare di parlare un linguaggio di verità e dirgli, se noi decidiamo che la sanità è una priorità e contemporaneamente facciamo altre dieci cose e non mettiamo neanche soldi che servono per l'inflazione, le persone, scusi no, però io devo poter finire di rispondere alla sua domanda. Se noi, faccio un esempio, se noi tagliamo con un taglio di 4 miliardi 16 euro medi agli italiani, ma gli italiani spendono 41 miliardi per curarsi per le liste d'attesa e quello che succede è che quando vai ad aiutare un genitore o te stesso deve fare un intervento o una visita, la devi pagare, non hai risolto niente. Perché hai dato 16 euro. Magliano ha un messo di contrarreplica, poi la donano e chiudiamo. Lei è convinto che ci sia uno spazio per una forza moderata, liberal-democratica? Io guardi, di moderato purtroppo non ho nulla. Adesso mi faccia dire a me però, come la sua, la definisca come meglio crede, in un'Italia in cui la corsa verso le esterne, fuori dal centro, è molto affollata e verso il centro non c'è nessuno che pensa di candidarsi al governatore. Io penso che non ci sia proprio alternativa. Perché questa corsa verso le esterne, che vuol dire la corsa verso le estreme, ha determinato una perdita del 20% dei voti alle politiche, del 30% alle regionali. La gente non va più a votare perché la politica è ridotta a un rumore che non produce assolutamente nulla, di nulla, di nulla, tranne sempre più rumore, sempre più estremo. Quindi la mia risposta è o è così o siamo fregati come Repubblica. Padellaro, senza rumore. Siamo fregati. No, le liste d'attesa, parliamo di cose reali. Le liste d'attesa, mi sembra che lei abbia detto, se io cittadino devo fare una lista d'attesa di un anno e mezzo per un'attacca, mi rivolgo al privato e non sto sbagliando. Non è così. No, chi paga, voglio dire, io vado, scusi, mi faccia completare, io un anno e mezzo non lo posso aspettare per fare un'attacca, ci sono milioni di persone che sono impossibilitate a usare la sanità pubblica perché le liste d'attesa bloccano tutto. Vanno dal privato, devono pagare. Qual è la soluzione per fare in modo che il servizio sanitario continui ad essere, come l'è stato fino a poco tempo fa, un punto di riferimento per i cittadini e uno non debba andare a buttare i soldi, tra l'altro arricchendo i privati che poi magari si comprano anche i giornali con i soldi della sanità. Senza magari, e non sono gli unici che si comprono i giornali. Due punti, uno è strutturale, servono 80.000 persone tra medici e infermieri, punto. E su questo siamo tutti d'accordo. Il secondo punto, la proposta che ho fatto non è esattamente così, dice per le 10 milioni di prestazioni arretrate, su cui c'è un rischio di vita, c'è un'attacca oncologica, io chiamo un numero, la regione mi dice l'ospedale ci mette sei mesi, la clinica accreditata ce ne mette cinque, tu rischi la pelle, sei sotto una soglia di reddito, io tutelo il diritto della salute e ti pago la prestazione come Stato perché io non sono in grado di dartela e tu non puoi morire perché io non te la do. Sì, però in questo modo danno i soldi ai privati. No, 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 attenzione Padellaro, nel contempo noi abbiamo fatto un intervento di 10 miliardi, 8 miliardi sono rafforzamento dei medici e infermieri pubblici, ma mentre tu lo fai per un anno, finché non metti a posto i 10 milioni di prestazioni, tu non puoi dire a un siciliano che deve morire se c'ha un tumore perché non può fare l'attacca, perché nella Costituzione c'è il diritto alla salute, noi l'abbiamo scassata e noi gli paghiamo il fatto che possa sopravvivere, mi dispiace. Ho capito. Un anno, un anno, mentre lo metti a posto. È un anno. E dimmi l'alternativa. È un anno in cui guadagna dice Padellaro, piccola pausa. Dimmi l'alternativa. E trasferimento.